Apparentemente gestiva un'azienda di Galvanica nell'Aretino. Con un profilo basso e anonimo aveva però negli anni evaso circa 14 milioni di euro. Ora però è finito nel mirino della Guardia di Finanza. Questo imprenditore aveva accumulato un'ingente fortuna svolgendo una normale attività a Orafa che operava prevalentemente con l'estero, evadendo completamente ogni tipo di tassa e per il deposito dei propri guadagni illeciti, usufruiva di alcuni istituti di credito localizzati in Stati come Svizzera e Liechtenstein. Al termine degli accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Arezzo hanno intercettato l'esistenza di questa ingente disponibilità estera, abilmente occultata al fisco. Tra i documenti è stato rinvenuto un modulo firmato dall'imprenditore che attestava il possesso di tali somme collegate all'evasione perpetrata nel corso degli ultimi vent'anni, finalizzato a regolarizzare questi ingenti disponibilità attraverso l'adesione all'istituto della collaborazione volontaria, il cosiddetto voluntary disclosure, procedura mai però perfezionata. Dopo una verifica fiscale nei confronti della ditta del soggetto resa difficoltosa dall'assenza di un impianto contabile e dalla continua reticenza mostrata dal titolare che portava a ricostruire la redditività sottratta tassazioni in Italia per oltre 14 milioni di euro con un'evasione di IVA di circa 3 milioni. Un'indagine molto complessa, quella della Guardia di Finanza Retina a tutela dell'economia legale della provincia.